eccoci qua di nuovo sul canale per aprire una posta che mi è arrivata ieri questa arriva direttamente da una claim che avevo fatto su telegram dovrebbe esserci dentro un omaggino ok forse due che vedo due carte bella questa questa è tanta roba perché mi mancava questo sì che è un omaggio invece quella cinese giapponese non non colleziono quindi non mi interessa l'unico set che avevo fatto in lingua non italiana a parte il trick or trade è stato di maxxlimax e basta altre cose giapponesi non ne faccio perché è molto costoso ho visto quindi fare i master set intendo quindi ho lasciato abbastanza stare top loader quindi si può andare col taglierino molto bene questi siti sono in balli serie mi piace sono dentro un po di set misti perché appunto ho preso un po dappertutto quello che trovavo e andiamo così dai la prima carta è un bellissimo lithium di astro di zenit regale molto bella condizioni perfette questo quasi sarebbe a gradare perché veramente bello la prima carta già buona la seconda è un penny di scarlatto e violetto con le sleeve brutte col cappuccetto diciamo questo bellissimo penny o bellissima devo ancora capire sinceramente sono massimo donna ma penso sia una donna dai penny mettiamole qua guardiamo l'inquadratura e le mettiamo giuste sono tutte col cappuccetto queste carte maledetto che ha inventato questo sleeve che veramente sono scomodissima oltre che darmi l'idea di sforzare troppo le carte quando si prova a tirarle fuori anche questo è il back perfetto e abbiamo un altro penny sempre di scarlatto e violetto che anche questa mi mancava abbiamo un po di carte scassate quindi penso che siano omaggi andiamo a guardarle subito abbiamo un wheezing distrutto e un audino sleeve normale molto bene abbiamo lo stantazones che da lì deve essere spagnola ma è italiana di ossidiana infuocata e ho trovato la mia prima gold di ossidiana infuocata prima queste senza top loader che magari non mi ricordo neanche cosa avevo preso in realtà ok questo mi piaceva un sacco rabska di paldea è un pokemon ovviamente bruttino ma questo artwork è spettacolare ci sta un sacco ok poi abbiamo un'altra carta sono tutte inner mint quelle che ho preso un bellissimo ace q ix la carta di ossidiana infuocata bellissima anche questa questa è una carta un po particolare diciamo la prima volta che si vedeva una cosa del genere figo però che c'è il taglio del che sembra fatto apposta ok poi abbiamo un altro inner mint si un desidue ix di ossidiana infuocata poi abbiamo wow questo è bello questo proprio bello un absolute ix ossidiana infuocata tutte carte prese indicativamente ai minimi card market sempre poi abbiamo un palafin di ossidiana infuocata ancora ne avevo trovate parecchie però comunque ne mancano lo stesso tante di carte di ossidiana sempre andiamo su un set un pochino più vecchiotto abbiamo un colpo fusione con chicco spighetto e maizello ok e ho ufficialmente trovato tutte le carte di colpo fusione economiche diciamo ho guardato quelle prossime che mi mancheranno stanno tutte diciamo dai 20 euro in su quindi sarà un po svenosa la situazione a dai 20 ai 200 vanno ovviamente e ultima carta per esclusione è quella di regno glaciale eccola qui una bellissima gold di regno glaciale questa l'ho presa sui 25 euro 26 euro mi pare stando sui 28 euro di minimi card market quindi comunque un bel colpetto è un'altra piccola carta che si aggiunge alla collezione bene amici per questo video è tutto vi ho fatto vedere i miei ultimi acquisti vi chiedo come sempre un like iscrizione al canale se non l'avete già fatto e ci si vede al prossimo video ciao amici